Giorgia, Giorgia, al centro dietro lo stai scelto, no dietro, dietro, dietro e come vuole grazie grazie oh dietro, un passo indietro di lato arriva oggi la proposta di Fratelli d'Italia di riforma costituzionale in senso presidenziale dal nostro punto di vista la madre di tutte le riforme per chiunque creda che la sovranità appartiene al popolo per chiunque voglia una politica capace di decidere, di assumersi le responsabilità delle sue decisioni e per chiunque voglia garantire in Italia governabilità e la serietà, la credibilità, la libertà a livello internazionale che un governo che abbia un forte mandato popolare può garantire vedremo chi ci sta sia chiaro, noi abbiamo presentato una proposta di legge in senso semipresidenziale alla francese ma voglio dire che siamo disponibili a discutere di tutto purché la maggioranza non voti l'emendamento soppressivo della intera proposta per scappare da questo dibattito perché se lo faranno noi sapremo che PD, 5 Stelle e compagnia non vorranno fare altro che mantenere un sistema nel quale continuare a fare liberamente i loro giochi di palazzo sulla pelle dei cittadini tolto questo siamo disposti a parlare di tutto per dare a questa nazione una democrazia moderna e adeguata e comunque andrà oggi si sappia che Fratelli d'Italia continuerà questa battaglia per cui se la proposta non dovesse passare allora alle prossime elezioni politiche chiederemo agli italiani un voto anche per questo grazie e buona giornata sarà la prova per centrodestra per centrodestra poter accoppare questa battaglia quindi credo che sia un buon segnale perché dimostra che al di là quelle che possono essere le incomprensioni e le polemiche e poi sulle grandi questioni ci si ritrova sempre compatte grazie e buon lavoro grazie grazie